Siamo molto soddisfatti dell'annata, in quanto questa è un'annata molto produttiva e allo stesso tempo con molta qualità. Sarà un'ottima annata per i vini nella Retino, sia a livello qualitativo che a livello quantitativo. È infatti partita con il piede giusto questa vendemmia 2018 con la raccolta delle prime uve precoci. Facciamo delle campionature, noi partiamo ad agosto per ogni singolo appezzamento e per ogni varietà. E poi quando arriviamo all'epoca giusta di raccolta, portiamo l'uva in cantina. La produzione, secondo le stime di Coldiretti, quest'anno vedrà un aumento del 25%. Se il settembre sarà buono, come le previsioni dicono, anche di ottima qualità. Le aziende ormai, mediamente, hanno già raccolto i vitigni più precoci, tra i quali i bianchi, tra cui lo sciardo nei altri vitigni. Stanno raccogliendo le uve rosse più precoci, quali si irà in Merlot. E per il San Giovese, che è il vitigno di riferimento in Toscana, diciamo che la previsione è intorno alla fine di settembre, insomma l'epoca di raccolta. Anche quest'anno, dopo un 2017 segnato dalla grande siccità con produzioni più scarse dal dopoguerra ad oggi, si sono fatti sentire capricci del meteo, ormai anno dopo anno, sempre più stabile. Nel 2017 era stata un'annata molto secca, in cui abbiamo avuto una grossa diminuzione della produzione. Nel 2018 invece abbiamo avuto un inizio stagione molto piovoso, che è andato a tirar fuori anche delle malattie, come la peronospora, in maniera maggiore. E poi dopo, però, la restante parte dell'estate è stata giusta, diciamo. Gli agricoltori, inoltre, si sono trovati nuovamente a fare conti anche con i danni da ungulati, cinghiali, cervi e caprioli. Come tutti gli anni, in alcune zone anche abbastanza importanti, quindi è ormai una delle costanti che caratterizza le nostre campagne. In questo momento è difficile quantificare il danno, comunque è un danno importante.